Anche ad Arezzo ora si certificano le competenze, un aspetto che oggi più che mai ha assunto un valore strategico per tutti coloro ad iniziare dai giovani che sono in cerca di lavoro. Così per supportare le imprese e per aiutare coloro che cercano occupazione, la Camera di Commercio in collaborazione con Union Camere ed Intec hanno sviluppato un percorso che attraverso uno specifico portale è in grado di attestare e certificare le competenze maggiormente richieste dalle aziende. Un'opportunità per le nostre scuole e per gli studenti di certificare quegli ambiti di esperienza nelle alternanze scuola-lavoro, nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento che hanno svolto presso le aziende. Questi periodi di alternanza possono essere certificati attraverso un servizio, un portale online che con la collaborazione degli istituti scolastici e del sistema camerale abbiamo messo in atto e dato la possibilità proprio alle scuole e agli studenti di utilizzarlo per valorizzare queste competenze, a partire da settori che in questo momento interessano la meccatronica, l'agroalimentare, ma anche il turismo e progressivamente le estenderemo sicuramente anche ai settori di interesse per il nostro territorio a partire da loro. Il servizio sarà erogato tramite una piattaforma digitale gestita a livello nazionale da Union Camere. Con il superamento di un'apposita prova online di verifica, gli studenti potranno inserire nei propri curriculum la certificazione acquisita che potrà essere condivisa con i canali social.